ciao ciao benvenuto stiamo per iniziare come mi come stai notando ovviamente mi trovo con un binario q 22 questo chiamato satinato ne parleremo aspetta come faccio per averlo un attimo ne parleremo durante questa puntata ma prima ovviamente di iniziare partiamo in eseduto con la sigla vai eccoci qua benissimo bene bene ti è piaciuta questa sigla ecco questa l'abbiamo inserita ultimamente quindi magari la vedrai spesso ma in ogni caso mi presento sono salvatore ma lì a paolo caluso e qui siamo dalla sr tessuti scegli la tenda più bella che vuoi su sr tessuti punto gli puoi se ci segui da tempo sai che ci occupiamo di tende su misure online quindi realizzate qui in luogo e spediti direttamente a casa dove quindi seguite attraverso i nostri aspetti su whatsapp quindi troverai ovviamente diversi video tutorial che ti aiutano in qualche modo per quanto riguarda per esempio il sistema odda come funziona quindi qual è la procedura corretta soprattutto il kit il binario adatto ecco che di questo ovviamente ci occuperemo e alla fine ovviamente riservata qualora si è interessato un'offerta particolare per quanto riguarda avere questo binario quindi completo di applicatura e anche di kit ma come ti dicevo ovviamente se ci segui da tempo già conoscerai quindi le dirette precedenti dove ci siamo già occupati ampiamente per quanto riguarda questo modello quindi dove metterlo quindi quali sono i profili perfetti i modelli e via dicendo questo che mi trovo qui ovviamente a presentarti è nato nell'ultimo periodo così diciamo e diciamo è stato inserito ecco più che è nato è stato inserito tra le nostre proposte ad una offerta speciale tutto questo nasce proprio attraverso una consultazione ovviamente con dei clienti che stavano cercando un binario pratico ma che soprattutto dia ecco quello che è l'onda perfetta quindi oggi diciamo conosciamo tutto ecco conosciamo ecco attraverso che ovviamente segue le mie dirette quale quelle che sono importanti delle misure ovviamente anche il kit quello che ho già presentato lo faccio vedere in questa puntata magari è la prima volta che ti sei collegato qui con noi ti consiglio di andare a vedere le dirette precedenti ma ecco qua vedi questo è il kit completo di questa bandierina e questo triangolino che ti permette ovviamente di ottenere un'onda retta quindi sia all'inizio che anche alla fine questo attualmente diciamo lo trovo è disponibile nelle diverse misure quindi 140 156 172 e 188 quindi se ci segui da tempo saprai il motivo delle misure quindi lì diciamo troverai l'offerta a te dedicata quindi per capire eventualmente qual è la tua misura indicata per la tua porta finestra puoi sempre contattarci attraverso il tuo smartphone su srtessuti.it i nostri esperti su whatsapp e ti seguiranno proprio durante la tua richiesta il montaggio è a soffitto quindi è dotato già di supporti a soffitto a secondo ovviamente la misura molto semplice quindi lineare si può avere nei colori di grigio satinato in alluminio o bianco il montaggio a soffitto come abbiamo detto e lo scorrimento è manuale, manuale significa che spostando la tenda con le mani quindi non è accorda e quindi solo sistema a strappo quindi le misure come l'ho detto sono quattro quindi secondo magari la larghezza dell'apertura e gli spazi che abbiamo quindi ecco questo ovviamente è diciamo uno degli articoli che proprio come ti dicevo l'altro giorno appena diciamo il cliente ha scoperto l'offerta e dici ok dici salvo dici da me ne dici tredici e così dici me ne metto sei in camera da letto che è in soggiorno quindi questa offerta ti potrebbe anche interessare come farci come fai naturalmente ti stai chiedendo a conoscere l'offerta dedicata a te puoi scriverlo nei commenti in basso quindi qualora sei su facebook ci sono interessato a conoscere l'offerta o se sei su youtube piuttosto che su instagram ti verrà fornito un link per andare a conoscere l'offerta e quindi eventualmente potrai poi contattare quelli che sono i nostri esperti su whatsapp per seguirti durante la tua richiesta ecco che naturalmente come già ci conoscerai questa è l'onda perfetta ecco qua vedi questo è il binario che naturalmente ci permette uno scorrimento pratico comodo ma soprattutto grazie al kit otteniamo quello che è l'inizio della nostra onda così come la fine diciamo molto ordinata ed elegante io a questo punto non mi rimane che salutarti quindi aspettati eventualmente sul nostro sito sldessuti.it o fissare un appuntamento qualora ti sei qua del luogo del paese vicino ricordiamo che siamo ascolti in provincia di catania catania piazza per santi mattanella 20 puoi sempre consultare il nostro sito sldessuti.it da salvatore maria paolo caluso è tutto quindi ci vediamo alla prossima ciao